Due giovani mucche uccise e divorate da un animale. I segni della presunta presenza di un orso nell'Alto Vicentino si fanno sempre più evidenti. L'esemplare sarebbe stato avvistato da più escursionisti, mentre si aggirava nei boschi tra Arsiero e Tonezza del Cimone e fino al confine con Folgaria. Il gestore di Malga Toraro, quando ha trovato i resti delle manze, ha pensato subito al plantigrado. Altre mucche che pascolano vicino alla Malga hanno invece riportato ferite causate probabilmente da movimenti bruschi causati dallo spavento. A tracciare l'identikit dell'orso è il ruanese Daniele Zovi, già comandante interregionale del corpo forestale, tra i maggiori esperti di foreste fauna selvatica. Mi sicuro è un orso maschio, se lo è, perché le femmine rimangono in destra adige, quindi in territorio molto lontano da noi. Da là non si muovono, i maschi invece sono erratici. Un orso turista ha la ricerca di cibo prima di andare in letargo. Si sta muovendo e si sta alimentando fortemente perché deve prepararsi al riposo autunnale, invernale. Hanno bisogno certamente di mangiare molti vegetali, potrebbero anche trovare qualche fonte proteica data da animali. Non è il primo e non sarà l'ultimo orso a seguire le orme del pioniere. Il celeberrimo Dino, protagonista nel 2010 di leggendarie scorribande fin quasi alle porte di Bassano. Il secondo invece, M4, durante l'estate ha predato molte vacche al pascolo, specialmente in alto piano di Asiago, creando 24 vittime. Quindi è stato particolarmente dannoso. A escursionisti e gestori di malghe rifugi, una raccomandazione da parte del vice sindaco di Arsiero, Simone Mattielli. Qualora si fosse un incontro ravvicinato con l'orso, bisogna cercare di mantenere sempre la calma. Non bisogna assolutamente cercare di avvicinarsi e fare una foto più bella perché si è vicini. Bisogna sempre avere rispetto degli animali selvatici e della montagna.